Sono tornati a cantare in piazza dopo due anni di pandemia i tantissimi giovani che ieri hanno preso parte al concerto del 25 aprile, organizzato in San Francesco grazie a Ripartire Festival, la manifestazione dedicata alle politiche giovanili. A salire sul palco come special guest è stato Gian Maria, fresco di avventura a X Factor. Insieme a lui, tra gli altri, si sono esibiti anche il gruppo storico lucchese Formiche nell'Orto, la San Michele Clou e Niveo, vincitore del contest musicale del festival. Oltre alla musica non sono mancati poi gli interventi di Ambi e degli alunni di alcuni licei cittadini a ricordare il significato della liberazione ieri e oggi. Un successo quindi per quella che è stata la prima edizione di un concertone del 25 aprile che i promotori si augurano possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni. Oltre alla musica non sono mancati, non sono mancati, non sono mancati, non sono mancati. Grazie. Grazie.